Prova sto cacchio di cieco E questo anche con respiro profondo dovrebbe shottare le super se non erro E niente Mi dissocio, mi dissocio Io ho messo maneggevolezza Calderone col cecchino Ah tutti fermi, uno, due Ma what? Ciao Phile, come stai? Tutto bene? Sei live anche tu? Ah no, pensavo fossi qua Sei live, live Le prove, le prove ci stanno Ci stanno, dipende, dipende che team hai Poi su pc, veramente, se avessi scegliere le preferirei su console Se non avessero i 30 fps Perché almeno su console non ci sono cheater E si gioca tutti alla pari, insomma Parti già svantaggiato dall'inizio Che giocano questi, con le spade Ma, ma vaffanpera Riposi di due giorni, ottimo, meno male Come sta andando lì, tra l'altro Non è tutto di cecchino Sì, ma nel senso che Ci sono gli hacker Ci sono i cheater, come si dice, no? Per quello dico parti svantaggiato dall'inizio E questo è un problema Un problema che deve risolvere Steam Deve avere un anti-cheat buono Cosa che non ha Che aveva Activision Uh, che sti prendevo Ho visto uno che stava fermo dentro una roccia di cecchino Ma sì, ma c'è un stranissimo Boh, comunque è da abituarsi Secondo me a sto cecchino Alla fine non è malvagio Se usciva Era stonx Non si può uccidere i nemici Se sono già morti Ha ha Stai vincendo Continua così Però vedi Secondo me ha un ritardo Nel Nel quickscope Alla fine Cioè Non so come spiegarvi Come spiegarvi, raga Io con il cecchino Sono un po' abituato a fare quickscope E con questo non mi riesce Per una questione Che si blocca Come se si bloccasse Avesse poca Se poca maneggevolezza Ma in realtà Non ho mai giocato di cecco Su Su Cod Non l'ho detto a caso Sì no ma So che comunque Andava tanto lì Su Cod Ma Uno che Ho Pelato 30 colpi Ma cosa ha fatto Sui chat L'azione abbastanza tranquilla Non male va Che ho sentito che Sta sempre peggiorando Cos'è Milan? Non ho capito Cosa? Non ho anche marotto La ulti Ah I nemici farebbero bene A temersi I sigilli sono la gloria E la gloria è tua Comunque bigaro Quando ci sei Dillo eh L'unione fa la forza Favoloso Ah Meno male Meno male Meno male Fila Ora Se ci sei Sul mio discord Mettiti in ingresso live Che ti sposto Favoloso le trials o posiris si troppa comunque nella città sognante Niccolò facendo il pozzo facendo la missione quella settimanale rompendo le uova come si chiama dentro il trono dentro il ride eccetera raga stanotte il cambio d'ora non lo so entri e troppato l'evoluzione quello che avevi già e mi piace non farmo sia stanotte il cambio d'ora che la chiesta ora avanti indietro grazie salvo no ma beh ma ho stato andrea per quello indietro si si bondo ho parato cam di giorni ma ho parato o avanti boh sto provando l'occhio di sol tanto so già passa dalle 2 alle 3 ma buona l'ora si ti davanti davanti mi live insieme amo ciò fa ciò fa ma nazionale basta mira istantanea guarda per averlo decente il god roll è mira istantanea tiro d'apertura o mira istantanea arma vorpal appunto mi resta antanea respiro profondo dopo passo come faccio passare adesso e ti dirò bondo non mi fa impazzire mi fa impazzire tanto non lo reputo forte né come revoker né come l'amato però comunque non è male io almeno a livello soggettivo io non è che mi ci trovi tantissimo però se butta via niente come si dice diciamo che avere tiro d'apertura mi resta antanea lo so anzi per fortuna per fortuna che non mi piace se no stare dovrei stare lì a farmarlo fare un po' ha ottenuto la zona c E' entrato il primo Noscop della giornata Questo cecchino 2.000 muni Questi abbandonano Vabbè Uuuu E' fermo eh Stonks Preso I server e steam sono inattivi Ma va Quando mai sono attivi Scusi E' più disattivi che attivi Sti cazzo di server Figa Settantasette balance Comunque sta partita Oh jesus E vedi Qui dipende sempre dalla Dalla mappa Però Non è male ma non è neanche Eccezionale Raga Vabbè Ho sparato a due secondi Sto E' dai Giocati Una vittoria ben guadagnata Zona persa dobbiamo fare le trials a te sta piacendo bond ma con che perk li hai?